www.segnomofanof.com Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video Io sono Segnomofanof, sono Ferdinando e oggi apriamo il regalo che un mio iscritto, un mio fan mi aveva mandato insieme al suo disegno Sergio di Morse, ho dovuto coprire per privacy il mio indirizzo è quello suo ti saluto Sergio, ciao e andiamo a regalo che sarebbe gli stickers del 2011 di Sailor Moon non so se riuscite a vedere ok, allora ora spacchettiamo il regalo il regalo suo il regalo suo allora, la confezione si presenta in questo modo come potete vedere c'è Serum Moon la grafica di Sailor Moon vi faccio vedere la confezione se sarebbe questa si presenta così così, vedete? ora ve li faccio proprio in modo che si riesce a vedere non so se riuscite a vedere oggi è anche brutto tempo questi sono i famosi stickers del 2011 e qui c'è scritto 3,99 ora si troveranno su ebay, su mercatini di vario genere qui abbiamo gli famosi stickers e dietro abbiamo collezionanti di cristalli che devono essere la seconda uscita degli stickers queste rimarranno così ora poi c'è poi c'è questa che apriamo insieme ok, si apre che è un libricino e andiamo a vedere cosa c'è scritto dentro come potete vedere il logo dei vent'anni di Sailor Moon questa pagina è dedicata a Sailor Moon questa pagina è dedicata a Sailor Mercury questa è Sailor Mars questa questa ve lo faccio vedere questa è il famoso torre di Tokyo dopo Sailor Mars viene ok come potete vedere è uno sfondo conosciuto per noi fasi Sailor Moon poi abbiamo Sailor Jupiter Sailor Venus Tuxedo Kamen insieme a Luna e poi questo è lì quindi penso che questo spacchettamento l'abbiamo potuto vedere vi faccio vedere gli stickers come sono c'è una pagina dedicata a Usagi e Sailor Moon un'altra Tuxedo Kamen Mask o Mamuro un'altra Sailor Venus un'altra Sailor Mars un'altra un'altra Mirako però qui c'è Mirako Rei Makoto Usagi Serogun e Emic Mamuro le spille le varie spille i simboli Cariglion questo è Cariglion quindi io ho finito la recensione ti ringrazio ancora Fergio e ti saluto sono davvero molto contento che questo vi facciamo nella collezione e quindi ti ringrazierò ancora ciao al prossimo video ciao un'altra